Buongiorno squadra, andiamo a risolvere insieme questa disequazione. Allora, come prima cosa porto a primo membro quella frazione, cambiandola di segno. Benissimo, a questo punto faccio il minimo comune multiplo che è 2 meno x quadro, che si moltiplica a questo termine, meno meno x cubo, maggiore o uguale a 0. Procedo al numeratore con la moltiplicazione. 2 x quadro meno x alla quarta meno x al cubo, 2 meno x quadro, maggiore o uguale a 0. Adesso, per bellezza formale, ordino questo polinomio dal grado più grande fino al grado più piccolo. Quindi meno x alla quarta meno x al cubo più 2 x quadro. Adesso metto x quadro a fattore comune al numeratore. Meno x quadro meno x più 2. Oh, sono pronto per studiare il segno del numeratore e il segno del denominatore. Cominciamo dal numeratore. Lo riscrivo. E noto il fatto che è il prodotto di due termini, quindi posso studiare con la regola dei segni questo prodotto, per sapere quando questo prodotto è maggiore di 0. Ma questo termine x quadro è sempre positivo, poiché qualsiasi numero al quadrato è sempre positivo. Io lo scrivo. Invece, questo lo studio a parte. è una disequazione di secondo grado, dove vado a individuare a, che è meno 1, b, che è meno 1, e c, che è 2. Calcolo il delta. Il delta sarà b al quadrato, cioè 1, meno 4 per a, per c. ottengo 1, meno per meno più, 4 per 1, 4 per 2, 8, quindi 9. Vado a trovare le soluzioni dell'equazione omogenea, cioè come se fosse uguale a 0. Quindi, meno b, cioè meno meno 1, che fa più 1, più o meno radice di delta, cioè più o meno radice di 9, quindi 3, fratto 2 per a, cioè 2 per meno 1, che fa meno 2. E trovo quindi le due soluzioni. Quella con il più, 1 più 3 fa 4, fratto meno 2, che fa meno 2, semplificato, e quella con il meno, meno 2 fratto meno 2, che fa più 1. Adesso sono pronto a studiare l'intero numeratore. Quindi vado a fare la retta dei numeri, e abbiamo detto che il primo termine di questa moltiplicazione è sempre positivo, quindi faccio una linea sempre positiva. Mentre il secondo termine della moltiplicazione, quello che sta dentro parentesi, è una disequazione di secondo grado, e il suo segno si determina come al solito, quindi prendo meno 2, prendo 1, metto un pallino pieno, poiché c'è l'uguale e sono compresi, poi guardo il valore di a. Siccome a è negativo, dentro l'intervallo è positivo, e fuori è negativo. Ho finito di studiare il mio numeratore, che sarà dato dalla regola dei segni di queste due linee. Adesso mi dedico al denominatore. 2 meno x quadro maggiore di 0. Non posso mettere uguale a 0, poiché il denominatore non può essere 0, per le condizioni di esistenza della frazione. Procedo con i calcoli. Vado a cambiare segno, e qui in diverso, vado a estrarre la radice quadrata. Quindi ottengo più o meno radice di 2. Vado a posizionare radice di 2 e meno radice di 2 nella retta dei numeri. Quindi più radice di 2 è 1 virgola qualcosa, quindi sta qua. Mentre meno radice di 2 è meno 1 virgola 4, una cosa del genere, quindi sta qui. Metto dei pallini vuoti, poiché non c'è l'uguale, e guardo il valore di a. Siccome a, il coefficiente della x al quadrato, è negativo, dentro è positivo, e fuori è negativo. Così facendo, ho studiato il segno del mio denominatore. Adesso applico la regola dei segni in tutti questi intervalli. Quindi, più per più, più, qui è più per più, più, per meno, meno, più, tutta linea positiva, meno, e più. E adesso mi chiedo, ma, io voglio una frazione maggiore di 0, cioè positiva. Ma dove stanno? gli intervalli in cui la frazione è positiva. Stanno qui, stanno qui, e stanno qui. Quindi, vado a indicare le soluzioni. Cioè, le x minori o uguali a meno 2, e ho preso questo intervallo, unito alle x comprese tra meno radice di 2 e 1, dove nell'1 però devo mettere l'uguale perché c'è il pallino pieno, unito a tutti i numeri che vanno da radice di 2 fino a più infinito. Quindi, le x maggiori di radice di 2. Ecco le soluzioni al mio sistema. se volessi scriverlo con le parentesi otterrei da meno infinito a meno 2 unito da meno radice di 2 a 1 unito da radice di 2 a più infinito. spero che questo esercizio possa aiutarvi a risolvere i vostri dubbi. Grazie mille dell'ascolto. Grazie mille